Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay di Ita. Oggi siamo su Follia The Alphadar, un gioco sviluppato da italiani, solo due persone, con un'ottima colonna sonora e tanti jumpscare. Interpreteremo i panni di Marco Spitt che si crea sul luogo di lavoro dei genitori un'università e ne verrà inghiottito dagli orrori. Ho preferito non iniziare questo gioco prima ma farlo ora insieme a voi, per essere diciamo un pochino più spontaneo. La cosa che mi sorprende è che, per quanto vabbè ho già settato tutto, dovrebbe avere la lingua italiana anche nel doppiaggio. Voi direte è un gioco italiano, beh io non lo metto mai per scontato. Vesti i panni di Marco Spitt, un ragazzo che vuole a tutti i costi scoprire il mistero legato al destino dei suoi genitori. Dovrai utilizzare tutte le tue capacità per sopravvivere e svelare i terribili segreti che si celano nella Frederick Fidelity University. La struttura nella quale lavorano i tuoi genitori. Oscure presenze ti trascineranno nel peggiore dei tuoi incubi. Buon divertimento e buona fortuna. Lo giochiamo a normale. È un gioco dove bisognerà anche stare in silenzio, evitare i nemici. E non si saprà mai da dove arrivano i nemici. E vediamo. Vediamo. Vediamo, lo analizziamo dal punto di vista della grafica, dal punto di vista del sonoro, la colonna sonora, ricordandoci sempre che è sviluppato da due persone. Mirko Scarici o Scarici, ideato e creato da... Il gioco è giocabile anche in realtà virtuale. Purtroppo è un DLC 4,99€. che succede? Ma questi mail provviene dall'università dove lavorano i miei genitori. Ah, mi spiace ma devo riferirle che è accaduto un gravissimo incidente ai suoi genitori. Vi consigliamo di recarsi immediatamente in sede. Arriva una mail dall'infopoint dell'università. Vediamo che ci sono dei bei dettagli. Alla fine anche questa diciamo filigrana e un po' cinematografica mi piace molto. Voglio dare un'occhiata qua in casa prima. Vedere un pochino di dettagli. Con queste luci automatiche. Sì, però ci sono degli effetti di luce che sbrillucicano ma direi che... C'è il telefono che suona e di realità. Non è così alto il volume. Mi sembrava che ci fosse un telefono. Ma non riesco a capire perché ovviamente... Vabbè, andiamo. La casa è spettacolare. Questo è il bagno. Ma è veramente fatta da Dio a casa. A parte alcuni angoli bui. Giocato in VR deve essere spettacolare. Steve Jobs. Citazione. Che ha la stessa marca del computer. Questa è la camera. Presumo la camera dei genitori. Ah, il telefono è quello qua. Ehi, Marcus. Sono Ryan. Ho ricevuto una strana email. Dice che è successo qualcosa di grave all'università dove lavorano i tuoi. Non vorrei allarmarti ma... Che ne dici se andiamo a vedere cosa sta succedendo? Dai, inizia a prepararti. Sto arrivando. Vediamo fuori. Si, diciamo che poi qua perde un pochino di dettaglio ma... Veramente... Devo... Procurarmi in qualche modo... Magari lo chiedo agli sviluppatori. Il DLC perché vorrei provarlo e farne magari un video anche in VR. Intanto andiamo all'università. Sta venendo a prenderci questo che presumo non sia un parente ma un amico. E vediamo che succede. Magari poi se il gioco vi piace. Ovviamente vedremo solo l'introduzione. Se vi piace si potrebbe farci una live. La strada è interrotta. C'è una frana. Già. E ora che facciamo? Deve esserci un modo. Ho un'idea. Usiamo il vecchio ingresso. Quello abbandonato. Non abbiamo altra scelta. Poi vi dirò per quanto magari possa essere tutto un po' sotto cliché o comunque... Soliti modi di operare un'ora ora... Non mi fa ne caldo ne freddo nel senso che per quanto sia misteriosa come tanti altri giochi in modo molto simile... Mi piacciono sempre queste introduzioni un po' così. Questa apertura di porta al vecchio Resident Evil 1. Un po' anche nostalgico questo. Che poi io... Avevo giocato anche Town of Light. Un amico era il capo sviluppatore. E mi è piaciuto molto quel gioco. Comunque con 1, 2, 3, 4 si va a cambiare. Quindi qua c'è la torcia o l'accendino. Quindi... Ok, col 2 invece premendo il tasto F dovrebbe accenderlo, infatti. Vabbè, apriamo. Trovo un modo per entrare nell'edificio. Questo invece mi ricorda molto... Ehm... Un altro gioco che non mi viene in mente. Outlast, ecco. Me lo ricorda molto perché... I tralicci... I tralicci... I tralicci... I ponteggi fuori me lo ricordano. Però alla fine... Allora, riceviamo una mail. È successo qualcosa di terribile ai genitori. Arriviamo... All'università. È chiusa, la strada è chiusa. Entriamo dall'arietro, presumo. Quindi si entra da qui. Immagino. Vediamo anche come si sale la scala. Ok. Cosa c'è qui? Oddio! Le pile! Ci sono anche le pile. Infatti leggevo che ci sono un sacco di consumabili da dover usare. Posso saltare giù? No, fortunatamente no. E questa la trovo una scelta saggia perché tante volte saltando giù ci si gliccia all'infinito. Torniamo giù. E vediamo. Il gioco dovrebbe costarsi 15 euro, mi pare. Allora, vediamo. Qua sembra tutto un po' così in costruzione. Quindi c'è un'entrata ma chiusa. Ma immagino che la torcia abbia le pile che si consumano. Mentre l'accendino magari non finisce ma fa meno luce. C'è il mio intuito ecco. Vediamo se riusciamo ad entrare. Qui è pieno tutorial perché ci sta insegnando i tasti. Quindi... la posso abbassare. Sì. Infatti immaginavo fosse un tutorial. Trovo un modo per forzarla. E come faccio a forzarla? Un'accendina? Però fa una bella luce anche lui. Anche questo quindi... E mannaggia come faccio a forzarla? Devo trovare... Devo trovare qualcosa. Ah però, ho trovato una porta sulla rete. Vediamo un attimino se c'è qualcosa. Tra l'altro premendo tab si aprono i documenti che abbiamo trovato. E le pile. In realtà... Le pile... Io dovrei cambiarle perché... Non ho ben capito che è successo ma... Non mi va più la torcia. Ah no, adesso va. Ok, ho cambiato la pila. Ok, vediamo adesso se qua dentro troviamo qualcosa. Sì, io tengo silenzio perché... I suoni sono fantastici. I suoni sono fantastici. Cacchio. E interazione. Ah ok, spingo tutto. Inviarsi. Spettacolare, sto gioco deve essere... Eccolo lì. Delle scale. Ricordiamo che c'è sempre il pannello elettrico che dovremmo bypassare di fuori. Quindi... Dobbiamo sempre trovare un... Un qualcosa per scassinarlo. Per intanto... Ho fatto il giro. Ho trovato niente. Si può salire? Sì. Sì, forse ha un po' degli alti e bassi graficamente. Però va bene. Sonoro. Porca. Mamma mia, ragazzi. Non così tanto, però insomma un filino. Eccolo qua piede di porco. Ok, l'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente il fatto che sto mettendo comunque anche delle cuffie per sentire se il microfono funziona, mi sta attutendo un pochino la potenza dell'audio. Ma credo che voi lo sentirete senza altro ancora meglio di me. Eh... Niente. Io ho... A sto punto onde evitare... Ci sono fondamentalmente due cose da non fare mai in un'ora. Avvicinarsi ad un armadio chiuso e andare in cantina di notte. Però... Abbiamo fatto più o meno tutte e due le cose. Comunque. Adesso. Io ho una vaghissima impressione che succederà qualcosa. Perché io adesso vorrei con tutto il cuore andare... Ma ovviamente mi sono già perso probabilmente. Vorrei andare a scassinare quella... Quella cassetta col piede di porco. Vedete qua sulla retro c'è... C'è una... Una via. Che ho trovato. Sto anche un pochino correndo. Ho trovato anche una cosa inquietante prima mentre... Poi mi sono messo a cercare. Ma la cosa inquietante ve la farò vedere tra poco. Perché è veramente inquietante. Ora andiamo avanti. Sì. Dovrebbe avermi aggiunto il piede di porco. Anzi non era qui. Mannaggia. Non è in memoria. Era sull'altra scala. Quindi riesco a farvi vedere la cosa inquietante che ho visto. Guardate un po'. Adesso. Io avanzo. Vabbè c'è la statua. Adesso andiamo di qua. Devo prendere l'accendino perché ho finito un'altra torcia e non voglio consumarle tutte. Guardate qua. Un... Un lupo o un cane insomma sotto quest'asse qui. Molto inquietante. Ora. Credo me lo faccia usare in automatico il piede di porco senza dover andare... Ok. E. Interazione. Ok. Accendi. E. Ah non era una... Era un ascensore. Ok. 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 Non l'ho capito. Infatti sembrava un quadro elettrico. Va bene. Siamo arrivati su. Si può andare. Dove si può andare? Provo a uscire di qua. No. Non si può. Se io premo. No. Ecco. Si scavalca. Sì. ora vorrei capire se effettivamente questa è già l'università o stiamo entrando attraverso dei ruderi insomma quindi mannaggia dobbiamo cambiare la torcia la pila allora ormai scassiniamo tutto col piede di porco insieme a cavallo poi è bello che cammina proprio così poi si può anche correre ma non ha senso che si può spingere mi lascia spingere però ok si si spinge mettere via la torcia ok ma siamo arrivati qua o forse riusciamo a accendere la luce forse forse quindi no non me lo lascia fare perché no non si può accendere la luce c'è un simbolo 2 qua quindi non so perché comunque non me lo accende quindi ci può fare bene no non voglio andare a consumare tutta la batteria proviamo ad accelerare un pochino il passo perché veramente perché veramente la zona è terrificante bene eccolo qua ok questo è andato su ed era 1 adesso dobbiamo attivare il 2 infatti il numero era giusto allora ok ok e quindi ce n'è anche un terzo presumo perché se tutto buio ancora direi di sì mamma mia che ansia poi ovviamente ditemi cosa ne pensate se hai messo ansia anche voi guarda oh cazzo è più la musica che non l'ho visto subito ho sentito la musica ho detto che cacchio è e c'era un tizio lì nella gabbia vabbè niente nella gabbia nella dietro le inferiate dietro il cancello quindi c'è sicuramente qualcosa di strano quello è inutile che ve lo dica io perché si capiva già e niente non riesco a trovare sta andando anche l'altra luce qua vediamo intanto se ho un documento un documento che possiamo andare a leggere subito a rapporto agente di polizia allora un incendio doloso danneggiato la casa del ah siamo nella casa del custode sono state trovate alcune etaniche di benzina sulla scena del crimine e non ci sono vittime i testimoni affermano che è la prima volta che accade un episodio del genere qui in accordo con il direttore è stato deciso di installare ulteriore telecamere in tutto l'edificio ok quindi non siamo in università ma siamo nella casa del custode che ha preso fuoco ma secondo me è successo ben altro perché c'è rientro di tutto però andiamo avanti sta andando via la luce ma io prendo l'accendino il mio fedele accendino ci sono delle scale che salgono e qua sotto io non vado perché il nemico era di sotto quindi andiamo uso l'accendino adesso perché non mi sento di di consumare un'altra torcia ancora qua c'è un altro pannello elettrico life ends e doveva essere qua un altro pannello ma non c'è vabbè continuiamo a salire qua c'è una luce di quelli industriali ma la cosa che mi sfugge è perché lui ha lasciato qua cioè si è stati lasciati qua dall'amico e non mi sfugge dove è andato l'altro però va bene questa è una scultura un po' così si sale o si va sotto qui c'è un metal detector quindi qui è l'inizio dell'università immagino c'è un ascensore da premere ma devo dirvi mi incuriosisce il fatto di dover scoprire che cosa è successo perché è una cosa talmente fuori di testa direi è successo qualcosa arrivi lì trovi una casa tutta bruciata l'università un po' così sembrava l'università calcolando che c'era quella scultura lì un ascensore una cupola direi che siamo già in università e mi chiedo come sia il finale insomma vediamo adesso arriveremo e probabilmente il gioco adesso cambierà radicalmente nel senso che poi un po' come la alien isolation dovremmo fuggire dai miei amici non lo so adesso però sento delle urla quindi che cacchio è successo cioè siamo precipitati con l'ascensore o siamo stati aggrediti no siamo precipitati con l'ascensore beh intanto però c'è un po' di luce qua oddio c'è una candela c'è qualcuno oh finalmente parla ok l'università adesso sembra già un po' più mi ricordo anche un po' control ok ok devo dire che è un tocco di classe nel senso che tante volte si arriva si vede un corpo e lui invece ha avuto proprio questa reazione qui e continua ad averla e sono morti tutti qui ma chi ha mandato la mail? soprattutto a me e a un amico ho paura ad aprirle ragazzi ma apriamo uh le chiavi sì ma non hai la testa neanche tu? abbiamo preso le chiavi ma di non so cosa adesso ho un po' paura di dire la verità di aprire tutte queste porte ma fortunatamente non si aprono mamma mia ragazzi sta cominciando il peggio ora ma chi? che non ho visto nessuno ah lì? no non ho visto nessuno chi era? perché c'era quell'individuo che era scappato ma era nei sotterranei telefono staccato un computer assaltato una candela qua presumibilmente un corpo attiva il generatore il generatore è dei che? eh non avevo il piede di porco ah è una porta elettrica quella forse non lo so andiamo avanti vediamo qua è chiuso non si può passare un pianto oddio spegni 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 che cazzo che cazzo ok inizia a farsi ansiogeno una cosa ok un po' alla Resident Evil il medikit apriamo anche questo armadio delle pile fantastico 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 questa è una chiave di non so bene cosa comunque metto la pila vediamo se me lo prende così che non ho ancora capito se carico o meno no vabbè adesso adesso ci pensiamo ah ok la chiave apriva questa porta qua però adesso devo assolutamente mettere una pila all'interno ok ok adesso si che illumina dovrei mettere a schermo tipo un sensore battito per farvi vedere la mia la mia reazione sarebbe figo ma non lo so non lo so ragazzi adesso andiamo di là ma sono un po' preoccupato eh sinceramente perché da lì siamo arrivati quindi andiamo di qua magari senza la luce c'è già un po' di luce soprattutto chi è che mette le candele dentro i condotti io esco senza luce perché ho un po' paura vediamo se riusciamo ad apparire qui ok 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 dischini acceso ma che non dice nulla un altro corpo sul tavolo ma che cacchio una bandiera italiana la porta chiusa c'è una marea di comunque di dettagli che quindi in pratica si sono barricati dentro io adesso sbarrico la stanza vengo perché qua sono morti tutti ed esco ma chissà che cosa c'è fuori c'era quella tizia che camminava che abbiamo visto prima da qua dietro che camminava qua eccolo lì beh adesso siamo più o meno a fine gameplay quindi direi che possiamo anche permetterci di andare a vedere dove stava andando cercando di non fare casino cioè per forza di cosa è qui dentro o sono allucinazioni no però allora ho aperto la porta e se n'è andata è questo niente apriamo anche questa e qua c'è un'altra porta ancora stiamo andando ehi ehi niente ne abbiamo perso un'altra però abbiamo un documento nota del dottor Kerkov non riusciamo più a gestire questa emergenza siamo a collasso io e il mio team stiamo facendo tutto per salvare quante più persone possibile ma senza energia elettrica non possiamo effettuare ulteriori analisi sugli ammalati inoltre siamo bloccati qui dopo che le porte elettroniche si sono chiuse confidiamo nell'intervento tempestivo dei nostri tecnici per ripristinare la corrente elettrica quindi non si sa esattamente che cosa sia successo però in pratica sembra che si siano tutti dico tra virgolette zombizzati all'interno di di questa università sto riavviando l'energia elettrica infatti l'energia sta tornando quindi spero torni ovunque in modo da poter proseguire bene ragazzi questa è la follia di Airfather lì dietro c'è ancora qualcosa ma non me la sento di continuare ora il gioco lo lascio in insta ma mi farete sapere voi se volete andare avanti magari con una live o con un secondo episodio fatemi sapere ovviamente come sempre ringrazio tutti e alla prossima e ciao ciao